Innanzitutto ringrazio la società per averlo portato a casa e quindi è un gesto importante dove ci fa capire ancora di più che la società è vicino a noi ed è vicino a me nel capire chi può servire a questa squadra e quindi Zubin credo che sia un ragazzo molto molto serio e che possa dare una grossa mano a questa squadra. Sì, come ho detto a lui e avevo fatto la battuta, adesso sono cavoli amari per me e per te e lui mi ha detto, ha detto mister io c'ho voglia di vincere e quindi ripeto, spero per tutti noi ma sono convinto che il ragazzo possa dare quel contributo in generale, non solo nel suo ruolo per cercare di far crescere ancora di più questa squadra. Adesso concentriamoci per la partita di domenica perché è una partita dove noi siamo reduci dalla prima sconfitta quindi dobbiamo lavorare di più, parlare di meno e cercare di buttarla dentro. Rivedendo proprio la partita di Sacile, cosa hai rivisto nella tua squadra che magari te l'ha sfuggito? Ho visto quello che avevo visto domenica e che sono quelle partite che nascono anche un po' strane, un po' storte stai 48 ore e non fai mai gol, poi alcune partite bastano due minuti per poterla sbloccare anche questo ci deve far pensare perché troveremo anche altre partite dove si crea molto, si finalizza poco e c'è il rischio di andare a prendere gol.